La regione siciliana chiede al governo nazionale di rinviare di almeno un anno nell'isola il passaggio alla nuova tv digitale con più avanzati standard tecnologici e una riorganizzazione delle frequenze previsto per il prossimo primo marzo. A proporlo è il presidente Nello Musumeci. Mi sono fatto personalmente portavoce presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dichiara Musumeci, dell'esigenza di aprire un tavolo tecnico. Il passaggio verso nuovi standard è inevitabile, ma nell'interesse di tutti è necessario allo stesso tempo garantire ai cittadini la possibilità di adeguarsi tecnologicamente e alle emittenti di essere in grado di continuare ad operare. Nella proposta al governo nazionale Musumeci sottolinea come ad andare incontro a ulteriori difficoltà saranno proprio molte delle emittenti televisive siciliane che già operano in contesti economici e sociali particolarmente delicati, continuando a rappresentare il punto di riferimento per l'informazione nello specifico territorio e garantendo stabile occupazione per centinaia di giornalisti e specialisti locali. Per quanto riguarda l'adozione dei nuovi standard, il presidente della regione richiama l'opportunità di effettuare una valutazione dell'andamento della diffusione degli apparecchi televisivi più recenti e della tempistica delle azioni introdotte per favorire questo passaggio tecnologico. Esiste il fondato timore, conclude il presidente, che tale iniziativa oltre a nuocere alla pluralità dell'informazione potrebbe aprire la strada a una crisi occupazionale senza precedenti in un settore peraltro altamente specializzato.